Salutiamo un po' gli amici, ciao Lucia, ciao Mini King, ciao Marta, ciao Claudio, ciao Italia Brio, Anto ciao, ciao Cristiana, ciao di luce stella. Ora a questo punto che dici, si fa prima doccia e poi si va a prendere il sole o si va a prendere il sole e poi si fa la doccia? No, prima il sole e dopo la doccia. Ah, prima il sole e dopo la doccia. Eh, non scherziamo, dai ragazzi. Ma vi uncete d'olio o di creme o andate così? No, no, di nulla. Di nulla. Nulla. Ma pensate, io ho fatto stamattina colazione alle otto col sole perché noi abbiamo il terrazzo rivolto ad est. Bene. Sì, noi facciamo come gli adoratori del sole. Eh, lo so. Ti ricordo? Vi capisco perché anche noi siamo così, anche io e te siamo così. Io e Cristiana siamo un po' i sacerdoti di Pitagora. No, perché noi abbiamo il sole. E tu scusa, mi fai l'eco? Vieni a salutare un attimo i ragazzi. Tu vieni, eh. Ah, devi finire. Ma un secondo. Hai te un saluto veloce. Un saluto veloce. Perché lui sta facendo, lui sta facendo i, sta facendo, come si chiama quella così? Reflessioni. Reflessioni. Dall'altra parte, hai capito? Sì, sì, sta facendo push-up. Allora, Cozzolina Assunta dice, mamma mia, momenti di riferimento di grande umanità. Eh, bravo Assunta. Noi facciamo l'umanità e tu e tuo marito facendo nella mozzola. Assunta mi ha mandato l'altro giorno, proprio ieri forse. La fotografia ti approfitterò da fare. Il marito di Assunta cucina, è un grande cuoco. Ui, ui. Bravo Teo. Vedi che fa buono dei push-up. Bravo Teo. Più dietro il sedere, Teo. Più dietro il sedere. Guarda che stai natando però, i push-up. Basta. I push-up. Va bene. Noi vi salutiamo, Nina. Senti, sì. Noi quindi, il nostro appuntamento quando è? Allora, per la sessione degli esercizi ci vediamo giovedì mattina alle 11. Oh, però prima non abbiamo un'altra cosa da fare noi. C'è Alberto, c'è Alberto. Alberto chi? Alberto, America me senti. No, c'è Alberto Rossi, non ci credo. America, c'è Alberto Rossi. America me senti, America. America? Eh, no, perché è una cosa tra me e Alberto, ci chiamiamo così. America me senti, ma c'è Alberto Rossi in linea. Saluta, saluta. Ciao Alberto, hai fatto anche tu ginnastica con noi, Maghi. Ciao, ciao America. America. Senti, no, quindi, noi ci vediamo quando? Allora, per fare la pastiera, quando è che ci dobbiamo vedere? Non mi ricordo più. Giovedì. No, ma dobbiamo fare prima la pastiera. Sì. Allora. Giovedì sera la pastiera. Giovedì sera alle 11. Sì, però ci siamo dimenticati di lasciare un ingrediente importantissimo. Ma per la pastiera? Sì. E quale? Spera. Allora, l'ingrediente fondamentale per fare la pasta frolla. Qual è? Il burro o? La margarina. O? La sogna. No. E qual è? E come no, non ce ne siamo dimenticati. Lo strutto, no? No. Ma che dici? Sano di mettere. E cosa mettiamo allora? Per il casatiello. Lo strutto è per il casatiello, per il torta nonapolitano. Alberto, ma questo è quello che mette lo strutto. Ma quando ma... E cosa si mette? Nella pasta frolla ci vogliono soltanto le uova. Il latte, il burro, l'arancio... Ecco. Il burro. E' una puntina di pan degli angeli lievito per i dolci. Una puntina giusto. Ok. A me non si già lo strutto. Ecco la pava. Ma lo strutto è per il salato, ragazzi. Vado. Scusate, ma ci dobbiamo vedere mercoledì per fare la pasta frolla o giovedì per fare tutto? No. Giovedì? Esattamente ci siamo sentiti telefonicamente. Non l'abbiamo spiegato. Eh. Facciamo tutto giovedì perché la pasta frolla va lavorata pochissimo. Se no dopo non si può rilavorare. E mentre noi prepariamo l'interno per la pastiera si raffredda in frigo. E poi riprenda e metterla nel vostro ruoto, teglia, quello che avete. Quindi ci vediamo giovedì allora. Comunque ho dei sostenitori qui. Lo strutto ovunque. Lo strutto ovunque. Ma la roba più pesante è sempre la più buona, no? Facciamo la cosa più leggera, dai. Allora, ricapitoliamo. Giovedì alle 11 di mattina c'è la fitness show. Sì. La sera alle 23 c'è pastiera show. Pastiera show? Bellissimo. D'accordo? Quindi abbiamo deciso le 23, eh? Ma veramente il mandibola? 23. Esatto. Giovedì alle 11 di mattina facciamo allenamento gambe e braccia. Giovedì, sempre giovedì, alle 11 di sera facciamo pastiera show, allenamento mandibola. Bellissimo. Vai, ok. Ragazzi, un saluto. Noi andiamo a prendere il sole. Sì. Un bacio. Un posto al sole sempre ci sarà. Ci sarà. Ciao. Ciao, ragazzi. Un bacio. Ciao.